No! E fermalo! Ma perché deve fare così? Ma sapete che è insensibile? È buono al lato! No! Basta! Oh! Sono morto! L'ha colpito sul suo cellulino! Fermo! Basta! Oh! E basta! Ma vengo giù io a difenderlo! Basta! Adesso lo difendo io! Perché l'ha fatto così? Perché l'ha fatto così? No! E' all'ultimo! Bravo! Ragazzi al centro! Occhio! Perché l'ha fatto il male? Perché l'ha fatto? Mannaggia! Non lascio stare! Bravo! Fermi! Guarda me stia! Ha visto però? Ha il suo amministratore! No! Ho detto! Ho detto! Guarda a spiegare i quelli! Da quella parte! Correte! 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 Occhio! Occhio alle moto! Occhio! Vuoi dire qualcosa di lei? Vuoi capire? Rinforzi? Sì! Rinforzi! Sì! Rinforzi! Ma per me non potresta... La pastiglia... Ce l'ho? Beh! E dove è salvo? Quella no! La pastiglia salva! Scegli il cuore! Non ce l'ha lei qua! No! Piano! Piano che è pericoloso! Fermo lì! Se ne arresto! Sono un'altro! Se ne arresto! Ma adesso lo recuperiamo noi! Piano! Se ne arresto! E' andato di là! E' andato... E' andato di là! Oh! Ehi! Passa la regna! Robina! Vediamo qua! Vediamo! Corri! Corri! Maresciallo! Non mi ricordo più dove ho messo l'assegno! Ecco! E restituisci la macchina! L'assegno! Perché non abbiamo più l'assegno! L'assegno non lo trovo più! Non trovo più l'assegno! Però me lo ricordo! Signor direttore! Venga! Stacchi il tassametro che ci vediamo là! Bisogna staccare il tassametro! Bisogna staccare il tassametro!